questi banner informativi che man mano daranno le tappe e le giuste informazioni rispetto a quello che si sta osservando e dopo appunto attraversa delle aree che avranno poi delle funzioni specifiche e aiuteranno delle funzioni specifiche come appunto l'ingresso dell'accoglienza, quindi il primo approccio, la prima informazione e lo start appunto del percorso del gruppo l'attività ludico-didattica, quindi al centro del giardino è quasi completamente libero, c'è il prato, quindi perché no sversa prendere il sole, perché no fare comunque, sono dei bambini quindi è giusto dare loro come spazio di spogo e gioco il butterfly garden, quindi quella che è l'area più protetta per lo sviluppo del bel vuole e appunto tutto quanto studiato in seguenza di una certa direzione di direzionalità è organizzato in modo grave, come detto prima, per dare giuste informazioni io posso parlare per questo qua, vi ringrazio grazie ci sono delle domande fatte tranquillamente e potete cercare sempre e se non ci sono domande possiamo passare invece all'intervento della dottoressa Flore che ci lavorerà per conto di trovare tante altre attività legate alle costituzionalità legate alla didattica portando la loro esperienza che è già consistente con queste cose ma invito a sedersi, l'aiuto a trovare scambiati scambiati buongiorno, sono in romanatura purtroppo ancora, nonostante sono 15 anni che c'è romanatura devo sempre dire che c'è romanatura perché ancora, nonostante, poi io sono accusato della comunicazione che nessuna posso prendere solo con me ma ancora vedo che molti non lo sanno è l'ente della regione che gestisce i vari naturali protetti che stanno all'interno del territorio del Comune di Roma e prima di tutto volevo ringraziare per questo invito perché penso che sia veramente fondamentale per l'ente partecipare e promuovere iniziative del genere sono iniziative totalmente proposte in linea con quello che sono i valori e proprio gli obiettivi dell'ente quello della gestione e della dovera del territorio tra l'altro, appunto, io mi occupo di un'educazione ambientale per cui, cioè, veramente non posso che complimentarmi a questo in Italia per gli obiettivi che si sono già sbordi non vorrei fare una presentazione perché il tempo è breve e ormai la presentazione la mando però, soltanto, scusatemi un po' l'incomitazione devo fare un'educazione su quello che è stato detto perché penso che sia forse anche più interessante questa è la prima slide che si mette sempre quando si parla di situazione ambientale sicuramente non devo stare qui a ribadire che un'estero dell'uomo provoca cambiamenti della natura se siete qui lo sapete molto meglio di me però se sicuramente è accettato ma è dato, è scontato a livello di ambiente naturale forse ce lo scopriamo un pochettino a livello di ambiente sociale anche nell'ambiente tutto quanto è connesso anche quello che noi facciamo anche le nostre idee anche i nostri progetti prima dicevo essere dettagli una cosa che mi sono appuntata perché era molto importante nascono tanti progetti e una delle cose veramente negative dei progetti è la permanenza cioè spesso ne nascono tante iniziative anche molto belle io partecipo spesso a presentazioni poi c'è un fortissimo consumismo di iniziative, di attività e penso che sia importante fare rete scusate l'importante è fare rete partecipare a queste iniziative proprio perché dobbiamo imparare forse che oltre che una sostenibilità ambientale ci sia anche una sostenibilità personale sociale nel senso che non possiamo sprecare le risorse per fare molte iniziative e poi buttarle lì oppure sprecare esperienze importanti, generalizzate e poi dovete anche rinunciare da capo adesso appunto non si giustifica più una non trasmissione di saperi abbiamo una strumentazione che tanto critichiamo e invece ci possiamo utilizzare cioè poi ci stanno la possibilità di scambiarsi le informazioni molto facilmente e questo penso che sia molto importante perciò mi volevo parlare un po' dell'esperienza che abbiamo fatto anche noi appunto perché siccome le idee maturano insieme nella società come ente abbiamo realizzato due anni fa un giardino come è il riparo di educazione ambientale però un giardino delle traspalle a riserva ancora alla barbrica sali che è proprio lì mi truffa dentro le nazioni una piccola iniziativa perché è stata realizzata abbastanza all'interno di una azienda agricola ve lo parlo soltanto perché così magari posso dare anche qualche suggerimento come ente e appunto ripeto noi cerchiamo di promuovere iniziative sul territorio iniziative anche rivolte in genere in collaborazione con altre cooperative o con altre strutture noi abbiamo una rete di fattorie educative sono 5 rete sparse sul territorio del Comune di Roma e in una di queste abbiamo in collaborazione con la cooperativa Fetto Natura che è una cooperativa che si occupa in maniera prevalente di inserimento di persone un embo di instabilità abbiamo fatto un progetto molto compresso diciamo però i progetti di questione ambientale in genere vanno da una singola visita per cui si porta la scolaresca in visita in un parco o in una qualsiasi struttura e l'esperienza è comunque una forte esperienza perché è un'esperienza emotiva è un'esperienza che tutte le nostre applicazioni basano sempre sul discorso del fare dell'esperimentare per cui del vivere una forte esperienza in modo che quei valori che vengono trasmessi possono essere assimilati in maniera più permanente facendo questi sono i propri concetti così che sono i propri concetti principali in cui si deve parlare anche di didattica il fare l'emozione lo sperimentare che è il gusto dei sensi i progetti un po' più complessi sono quelli che prevedono anche un incontro in classe per cui si può approfondire la parte più nozionistica che presenta l'attività e poi si fa la visita oppure il classico progetto diciamo quello di un'educazione ambientale ormai accettato ma in generale comprende i tre interventi in classe in visita e quale in operazione finale poi abbiamo questi ultimi progetti che sto facendo sempre di più e che sono quelli veramente vincenti perché è importante sì che i ragazzi vivano nuove esperienze nuove sensazioni però queste emozioni vanno poi rielaborate in classe cioè nuove esperienze vanno assimilate e inserite nel contesto unico più generale per cercare di provocare proprio dei cambiamenti e per cui ci stiamo rivolgendo sempre di più anche a corsi di formazione per insegnanti questo progetto non era particolare abbiamo iniziato invitando le scuole che volevano partecipare alla realizzazione dei giardini delle farfalle hanno avvenuto più scuole con scelte 6 privilegiando quelle con molte persone con handicap dentro perché ci sembrava il giardino delle farfalle un'esperienza particolarmente interessante proprio per ragazzi con disabilità cognitive e poi faccio i giardini per te le ho fatte apposta l'abbiamo fatto in una scuola di insordomuti ed è stata un'esperienza veramente fantastica perché quando riescono a questa esperienza ti danno proprio gli operatori stessi sono riusciti fuori entusiasti perché essendo molto recappate molto colorate molto attraveravano moltissimo i bambini l'esperienza andava lì bisognava niente troppo lavorare e niente troppo cantare e queste scuole sono state prima abbiamo fatto 5 incontri di formazione con gli insegnanti con gli insegnanti e con i nostri operatori presentando perciò tutte le possibilità che potevano venire da una farfalla abbiamo visto tutto il ciclo tutto il discorso del ciclo il discorso di abilità manuali come fare attività con il disegno con la musica con la danza abbiamo preparato un mentale delle api con il discorso alimentare ci siamo bizzarriti proprio perché tutte le nostre società si basano su un discorso della ricercazione per cui da uno stimolo da una realtà cercare poi dopo di esplorare e di farlo uscire fuori tante che potessero interessate i bambini sono andati a vestiti hanno fatto bruttissimi cartelloni in tutte le scuole nostre ma sono pieni di farfalle fatte con i cartoni fatte in tutte le maniere e abbiamo proposto di realizzare i giardini delle scuole proprio perché anche noi volevamo promuovere il discorso della rete dei giardini dei terrazzi dove è possibile per cui abbiamo invitato poi anche i genitori a scegliere alcune piante e dove è possibile che avevano di realizza che ha operato così cercare di favorire queste soste che abbiamo visto queste soste nelle farfalle e abbiamo perciò fatto gli incontri con gli insegnanti abbiamo seguito la creazione del giardino e dell'attività in classe e in parallelo abbiamo creato il giardino delle farfalle presso la tenda pericola del trattore in modo che gli insegnanti e anche i ragazzi stessi andavano in vista per cui rimane importante comunque il giardino diciamo quello madre quello che ha tutto quanto che è più grosso che è più perfatto perché fa da stimolo e da continua verifica per il lavoro che può essere svolto per tutto l'anno come dicevamo per più anni tornando qua al tema educazione nelle aree urbane qual è la cosa che facilita che è importante nell'educazione ambientale nelle aree urbane che i ragazzi possono tornare cioè possono veramente verificare la trasformazione delle preparazioni sull'ambiente perché avendolo vicino lo possono rivedere sia nel corso dell'anno che negli anni e questo è una cosa che è importante è fondamentale il far vedere che davvero si fa qualche cosa per responsabilizzare i ragazzi questo qua è il progetto appunto che vi ho detto e questi sono appunto i cartelli e li abbiamo fatti utilizzando questo con la collaborazione della cooperativa di effetto natura che è specializzata appunto nel discorso del linguaggio è un linguaggio standard per ragazzi con difficoltà mentale perché si può leggere e tra l'altro è molto carino anche visto ormai secondo me andremo avanti tutti quanti questo livello ormai la scritta non le leggiamo perché abbiamo fretta perché abbiamo solo le immagini sarà la nostra nuova modalità di scrittura ed effettivamente ecco non è venuto poi ecco sempre per ritornare al discorso come le idee maturano io prima scrivevo programmi per la televisione e la Siai si raccomandava mi raccomando come hai un format depositalo subito perché le idee non è che si copiano ma nascono insieme cioè ce ne sta io non ho trovate mille di situazioni perché facendo così poi ce ne erano mille ma alla fine ho scelto questa e per cui vuol dire che insomma siamo insieme in rete anche nel sapendolo e ci afface il discorso anche il tuo discorso che adesso in tempo non è che però del simbolismo e dell'importanza della farfalle che noi abbiamo affrontato nei miti nelle leggende nella cultura orientale nelle culture per cui se le possono fare mille che può fare un discorso veramente multidisciplinare con la letteratura dove ci stanno ragazzi che vengono ormai le classi sono multietting e le farfalle forse nei paesi orientali sono ancora più di anni che da noi per cui si può utilizzare anche la loro esperienza invitandone a partecipare in maniera di ora mi scuso se sono stata un po' più frenetica però ho cercato di dare informazioni in breve tempo poi sta a voi di elaborarle perché appunto l'invenzione orientale non dà ma dà soltanto stimoli in questo caso grazie grazie dottoressa tra l'altro brevissima stata a questo punto lasciamo la serie sul tavolo della presidenza Aurelio Valentini e prima che Aurelio chiamerei Elisabetta Salvatorelli al tavolo per stargarci da parte dell'assessore Masini assessore alle periferie e manutenzione urbana buongiorno a tutti scusate non riuscite ad arrivare solo ora vi porto i saluti dell'assessore Paolo Masini assessore a uno sviluppo delle periferie infrastrutture e manutenzione urbana che ha patrocinato questo incontro di oggi questo segnale di oggi e avrebbe voluto essere qui ma ovviamente non dovete immaginare sono giornate un po' complesse per Roma tra allagamenti e problematiche varie purtroppo non ci fa sempre in fretta l'emergenza quindi vorremmo volare quanti come le parfalle ma a volte insomma le emergenze ci riconducono un pochino più sul suolo in questo senso comunque con molto piacere noi cerchiamo insomma di appoggiare veramente questo tipo di iniziative anche nella Casa delle Parfalle abbiamo dei centri culturali tra l'altro quello di San Basilio all'Aldo Fabrizi c'è già un giardino delle Parfalle che voi avete visitato su nostra indicazione per cercare anche di riattivarlo inoltre stiamo sviluppando una serie di progetti anche di ordini alle scuole insomma diciamo che la direzione è questa è segnata e ovviamente appunto come dicevo prima dobbiamo fare un po' i punti con un po' le emergenze con il bilancio però cerchiamo veramente di avere un respiro anche un po' più ampio perché in questo discorso rientra anche un po' per ieri proprio ieri appunto è uscito il tema di maturità che riprende l'indicazione anche di Renzo Piano su questo rammendo delle periferie e diciamo che noi siamo in sintonia stiamo tra l'altro collaborando anche con il gruppo di Renzo Piano in questa direzione in modo di riducire i pezzi di questa città insomma e la natura entra in maniera prepotente in questa città stiamo in una città verdissima insomma in un comune agricolo di grande Europa in questi ampi spazi vetri che sono purtroppo difficili da mantenere dal punto di vista amministrativo ovviamente con dei costi veramente in questo momento purtroppo non sostenibile quindi trovare anche forme ovviamente diverse che partono dal basso quindi adozione delle aree verde si sta lavorando anche insieme all'assessore dell'ambiente in questa direzione quindi tutte iniziative che cercano appunto di rifugire anche la parte selvaggia delle città non bisogna anche di questo di riuscire insomma il suo rapporto con la natura si va sempre più sfilacciato credo anche nelle ho sentito un piccolo pezzettino dell'intervento precedente sull'educazione nelle scuole bisogna abituare anche i bambini ad avere un contatto con la natura con questa natura che non è una natura matrigna ma insomma una natura dietro casa che può costituire anche un'aula a cielo aperto insomma non rimanere in questo modo scolastico ma insomma cercare veramente di riavvicinarsi per contrastare questo fenomeno che è il deficit anche di natura che si parla moltissimo non so se mi avete sentito guardare insomma deficit di natura delle nuove generazioni che si allontanano appunto dagli ambiti naturali dal contatto con la natura con tutte le conseguenze perché se dobbiamo formare una classe dirigente del futuro che abbia a cuore anche il patrimonio naturale forse tocca cominciare veramente a lavorare in maniera più decisiva nelle scuole in questa direzione quindi giardini del farfalle o comunque questo tipo di iniziative vanno in questa direzione veramente per riconnettere il fondo la città urbana con la natura che ci circonda che appunto non è la natura di cui abbiamo il paura io vedo tante domeniche che ancora anche degli insetti forse veramente lavorare veramente fa di capire che gli insetti colpa delle madri colpa delle madri di questa generazione iperprotettiva nei confronti delle nuove generazioni che impedisce però appunto poi una sperimentazione con il mondo naturale con la diversità insomma animale vegetale o quello che sia insomma quante volte cerchiamo di dire la terra sporca non ti sporcare vai in giardino non ti sporcare invece tornare veramente con le mani nella terra sarebbe molto educativo e formerebbe insomma diciamo queste nuove generazioni gli anticorpi sì le città ci massacrano quando si infetta qui si infetta lì poi alla fine siamo tutti allergici i bambini di otto sono tutti allergici con le ansie cioè non è un caso insomma quindi io scotterò l'ultima da tavola da turba adesso sono molto litieri poi se volete insomma sono a disposizione per qualsiasi tipo di informazione insomma per uno scambio grazie 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 a tutti lascio direttamente il tavolo a un elio che così potrà invitare gli altri ospiti qui mi presento sono pregio Valentini dell'albo degli agroiettrici di cui sono segretario per Roma adesso abbiamo un compito importante perché abbiamo sentito delle parole magiche che si sono riperdute spesso durante tutte e quante le vostre relazioni nella giornata sono fare vite biodiversità e didattica mi sembra di aver capito queste tre cose adesso cercheremo di applicarle in qualche cosa di concreto dove ci sono delle regole perciò regolamento che il comune di Roma vorrebbe approvare quindi applicarle all'interno di questo regolamento cosa significa invito qui l'area rossitoria del Vaglia con noi poi Cristiano non c'è di scotti di salviamo il paesaggio c'era il dottor Milito dell'arco degli agronomi e non so se Giorgio Osti vuole anche venire per il comitato di un carbone per la fotografia e abbiamo iniziato un percorso diciamo questo affare rete l'abbiamo applicato insomma a suo tempo creando insieme una proposta di regolamento che abbiamo votato all'amministrazione del Vaglia sì vado aspettiamo Cristiano vado l'idea è c'è qua allora siamo partiti da un presupposto insomma l'amministrazione la scorsa diciamo amministrazione voleva portare un regolamento diciamo l'attenzione del comune di Roma che sono 40 anni se non di più forse il dottor Milo si ha un po' tempo diciamo questa proposta di creare un regolamento che sembra qualche cosa di molto stelica perché ci sono delle regole in realtà del proprio nutrimento per gestire i piedi a come questo regolamento diciamo è stato prodotto in una maniera un regolamento di Roma di Roma Grazie a tutti.